Buongiorno a tutti, oggi parliamo della manipolazione delle cifre su Dial Peer utilizzando i Translation Profiles. Il processo di manipolazione delle cifre converte il numero composto in un numero diverso per raggiungere la destinazione. Ci sono molte ragioni per manipolare le cifre sul vostro sistema vocale. È possibile manipolare i numeri chiamati aggiungendo, sottraendo o sostituendoli con altri. Il seguito vengono elencati alcuni dei motivi più comuni per i quali risulta necessaria la manipolazione delle cifre. Per tradurre un numero PSTN completo, ad esempio un numero E164 o 10 cifre, verso un interno più breve, così che le chiamate interne ed esterne possano essere fatte verso un singolo numero. Per far sì che gli utenti compongano un codice accesso per le chiamate PSTN, il classico 0. Questo codice accesso deve essere poi eliminato prima di notare la chiamata sulla rete PSTN. Per bloccare le chiamate a numeri specifici Per reindirizzare le chiamate a numeri specifici Il Translation Profile funziona in modo simile a liste di controlli di accesso su un router. Con le liste di accesso si crea un'unica CL per fornire dichiarazioni in permesso e negazione. È necessario quindi applicare la CL all'interfaccia del router utilizzando il comando ACCESS GROUP. Il vostro primo compito è quello di creare la Voice Translation Rule con un tag unibico per l'identificazione. Ogni Voice Translation Rule può contenere fino a 15 regole. Il passo successivo è quello di creare una Voice Translation Rule e impostare le regole da utilizzare per i numeri chiamati o chiamanti. Infine, la Voice Translation Profile viene applicata ad IAPIR POTS o VOIP. I Translation Profile sono estremamente flessibili. Possono essere utilizzati per fornire un controllo più granulare su scenari di modifica rispetto ad altri strumenti di manipolazione delle cifre. La creazione di un comando di Translation Profile è una semplice questione di entrare in modalità Configurazione ed utilizzare il comando Translation Profile, dove è possibile contrassegnare la regola in base al numero. Il seguente esempio crea Translation Rule 1. Entriamo in Configuration Terminal. Diamo il comando Voice Translation Rule 1. A questo punto siete in modalità Config Translation Rule. Abbiamo sottoscritto con il nostro produttore telefonico la selezione passante, ovvero gruppo numerazione ridotta, per i numeri che vanno da 02-92-90-91-00 a 02-92-90-91-99. La selezione passante o GNR sono numeri aggiuntivi che permettono alla chiamata ingresso al Cisco Call Manager Express di bypassare l'operatore del centralino e di essere indirizzata direttamente all'interno desiderato. Il PABX Cisco Call Manager Express è programmato per installare le chiamate in arrivo utilizzando i numeri della selezione passante GNR verso gli interni corretti. Qui in Italia sono consentiti numeri di lunghezza variabile, ovvero i numeri 02-92-90-91-07 e 02-92-90-91-07 sono identici. Tutti indicano l'interno 07. Passiamo ora alla Translation Rule. La corretta sintassio della Translation Rule è Rule, Numero, String numeriche da verificare, String numeriche da sostituire. Andiamo ora a implementare le regole per il nostro centralino. Le seguenti regole permettono di convertire la penultima e o l'ultima cifra, una chiamata probabilmente da PSTN, in un nuovo numero locale sulla gamma 1XX. Quindi Rule 5, che inizia da 2-92-90-91 e contiene una cifra che va da 0-9, viene sostituita con 10 e il numero che è stato ricavato dall'ultima cifra. Rule 10, per ogni numero che inizia per 02-92-90-91 e contiene delle cifre fino anche a due cifre da 0 a 9, viene sostituito con 1 e le ultime due cifre vengono quindi accodate. Quindi si può uscire dalla configurazione di questa Translation Rule. Andiamo ora a verificare la Voice Translation Rule 1 appena creata, con il comando test Voice Translation Rule 1 con il numero da testare. Proviamo con il numero 02-92-90-91-1, che si abbina con la regola 5 e dà come risultato il numero 101. Proviamo ora con il numero in arrivo a 02-92-90-91-01, che si abbina con la regola 10, che dà sempre come risultato 101. Proviamo ora con il numero 02-92-90-91-74, che si abbina ancora con la regola 10 e dà come risultato il numero 174. Per completare la configurazione, la Voice Translation Rule 1 deve essere attivata all'interno di uno Translation Profile come segue. Andiamo in comando Voice Translation Profile PSTN-IN, andiamo in comando Translate Code 1, e usciamo. In questo modo la Translation Rule 1 è stata attivata per la chiamata ingresso il parametro Code all'interno del Translation Profile con tag PSTN-IN. Ora, il Translation Profile deve essere associato ad un DLP, nel nostro caso POTS. Qui scegliamo il 10. DLP voice 10 POTS, Translation Profile incoming PSTN-IN, come precedentemente definito, definito, Incoming Call Number 2-92-99-T, Direct Inward Dial, che è praticamente la selezione passante, diamo in comando Exit. Ora, il DLP 10 si attiverà ogni volta che il Cisco Code Manager Expert riceverà una chiamata ingresso, Incoming, contenente i numeri 0292-99-NNX, Andiamo ora a verificare il funzionamento dei Translation Profile delle chiamate in arrivo. I seguenti comandi servono per avviare il debug e verificare le corrette operazioni. Diamo il comando Debug SDN Q931 e diamo il comando Debug Voice Translation. Facciamo quindi una chiamata da PSTN per essere il nostro Cisco Code Manager Express. Il numero 321-877-4532 sta chiamando il nostro Cisco Code Manager Express al numero 0292-90-91-23. Sulla linea ISDN si alza la chiamata, in ricezione, si vede il numero arrivare 321-877-4532 e che sta chiamando 0292-90-91-23. Una volta completata la segnalazione a chiamate in arrivo sulla linea ISDN, il Cisco Code Manager Express identifica la corretta regola per la conversione del numero chiamato da PSTN. In questo caso, il Cisco Code Manager Express individua la regola 10 per la corretta conversione, mentre la regola 5 non passa la verifica. Vengono eseguite quindi le operazioni di situazione specificate precedentemente nella regola 10. di seguito gli stati di avanzamento della chiamata in corso squillo telefono sganciato e infine conversazione col telefono 123. Grazie per la vostra attenzione arrivederci. Grazie per la visione!